Grande ottimismo da parte dell'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borracino per mantenere il corso di medicina Taranto. Tale problematica infatti si è tenuta una riunione convocata dal presidente della regione Puglia a Bari, presenti oltre a Borracino l'assessore Sebastiano Leo, l'assessore del comune di Taranto Francesca Vigiano, il presidente della provincia di Taranto Giovanni Gugliotti, il rettore dell'Università di Bari Stefano Bronzini, il direttore generale dell'Università di Bari Federico Gallo, il direttore generale dell'ASL di Taranto Stefano Rossi e in conference call il presidente della scuola di medicina Loreto Gesualdo. E prosegue così Borracino, grazie all'iniziativa della regione Puglia e del presidente Emiliano stiamo mettendo in ordine una faccenda che rischiava davvero di mostrare il volto della beffa per la città di Taranto. Mercoledì prossimo tutti insieme, comune di Taranto, regione Puglia, ASL e Università di Bari, con il rettore e il direttore generale e il preside della facoltà di medicina, al MIUR, chiuderemo questa faccenda che ha avuto degli aspetti grotteschi. Senza grandi clamori, ma lavorando sodo, noi abbiamo messo in campo una strategia unitaria che più che agli slogan ha guardato ai contenuti. Taranto non meritava di essere abbandonata, Taranto è stata immediatamente difesa dalla regione e dalle sue istituzioni.